I tifosi della Vispesero la aspettavano da decenni ed ora, il prossimo 2023, si attende davvero come l'anno buono. L'anno per la copertura della Tribuna Prato dello Stadio. La gradinata degli Ultras, da sempre soggetti ad ogni genere di intemperie invernali e al sole cocente di inizio e fine stagione, entra nell'agenda dei lavori comunali con tanto di finanziamenti approvati. Questa mattina, nella riunione di giunta, è stato infatti approvato un mutuo da 1.300.000 euro per copertura e miglioria alla Prato, ma anche alla Tribuna dello Stadio del Rugby, Totti Patrignani. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci, avvalorando l'effetto positivo del finanziamento PNRR ottenuto ieri per realizzare il Centro Federale del Basket nell'impianto Facchini di Viatogliatti, nonché futura Casa VL. Un mutuo che dunque non diventa più necessario da un lato, dove erano previsti 2 milioni, è dirottabile ora su calcio e rugby. Nel dettaglio, la Prato delle Benelli non solo verrà coperta, ma pure abbassata e allungata. Già attivi i contatti fra il Comune e il Presidente della Vis Mauro Bosco. I lavori potrebbero partire o nella pausa natalizia o alla fine della stagione 2022-2023. Idem per il rugby. Insomma, all'orizzonte c'è la concreta prospettiva di stadi sempre più confortevoli.